La serata non finisce mai perché Soveria è senza fine, quindi ogni anno accade di passarci, non è proprio un luogo centrale, la cosa singolare di Soveria è che uno può facilmente passare per Firenze o per Bologna perché è sulla strada, invece Soveria Mannelli non è sulla strada ma non ci passa lo stesso, credo che sia questa la magia di Soveria Mannelli, passo per Soveria, in realtà è un luogo per cui non si va da nessuna parte, quindi è un percorso della mente perché non è che uno per andare da un luogo all'altro deve toccare Soveria, invece ci passi, quindi possiamo dire che la caratteristica di Soveria è di essere un luogo di passaggio per andare da un sé a un altro sé, dal sé di un anno al sé di un altro anno e ogni anno ritrovarsi a Soveria come se fosse casa propria, quindi non solo è un luogo di passaggio in cui tu passi ma anche un luogo di arrivo e di partenza, quindi parti, passi, invece Rossano Calabro, adesso dovremmo cercare di farlo diventare anche esso, un luogo in cui uno continua a passare per trovare se stesso. Grazie a tutti.